Vedo di te, volta a prenderti. Abbandoni via via, profondamente su. Mani a poco a poco, si attirino via via, sempre di più. Faremo una piccola esperienza con te, per entrare maggiormente all'interno di te stesso. Chiudi l'occhio, cominciano ad attirare. C'è una sedia dietro di te, inoltre se la tua porta prenderti un passissimo momento, le mani si stanno attirando. C'è una sedia dietro di te, volta a prenderti. Abbandoni via via, profondamente su questa sedia. Scendendo via via, all'interno di te stessa, via via. Possiamo fare anche delle tecniche numerate. Grazie a tutti. 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 il colpo dei sette occhi di Nanto Mesmer. Cosa? Il colpo dei sette occhi di Nanto Mesmer Lucero del Sud Allora, questa è, perché ho voluto renderlo un po', non se l'aspettavo, non ho mai visto una cosa del genere Adesso La roba, più fortemente, più fortemente, le gambe si possono muovere, come se fosse dell'acqua, muotare, 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 fuori, 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 più fortemente, più fortemente, più fortemente, più fortemente, più fortemente, Ancora, 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 stop! Non ci si ricorda, si ricorda Mi conti, in quel punto, in quella reazione, ancora, 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 ancora Sì, 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 fuori fuori Sì 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 Io ti invito a fare due cose. Uno, segui i nostri canali gratuiti online. Due, abbiorni al nostro canale. Perché ciò che mettiamo nei nostri video è unico e non lo potete trovare in altri posti. Questi sono i miei risultati, i miei risultati e non lo potete trovare in un'altra parte. Grazie per la visione.